Terza vittima per il crollo di Scampia nell'ospedale Cardarelli di Napoli è deceduta Patrizia della Ragione, 53 anni, era stata ricoverata per un politrauma, aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino. Patrizia era la madre di Roberto Abruzzo, la prima vittima del crollo di 29 anni, l'altra vittima, Margherita della Ragione, 35 anni, era la nipote della donna deceduta oggi. Giuseppe e Luisa Abruzzo, rispettivamente di 34 e 23 anni, figli di Patrizia della Ragione, sono ora ricoverati nell'ospedale del mare. Giuseppe è in gravi condizioni. La donna deceduta era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate nell'ospedale pediatrico Santo Bono. Secondo quanto riferisce il bollettino ufficiale dell'ospedale Cardarelli, alle ore 13 circa i sanitari del reparto di rianimazione hanno constatato il decesso della paziente, Patrizia della Ragione, ricoverata a seguito del crollo di Scampia. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate, tanto da essere immediatamente accolta nel reparto di rianimazione del padiglione di emergenza dell'ospedale. Attualmente lo stesso reparto accoglie una seconda donna giunta in ospedale a seguito del crollo che, pur presentando un quadro estremamente grave, si trova in una condizione stabile. Presso l'ospedale Cardarelli, inoltre ricoverata nel trauma center, una paziente le cui condizioni sono soddisfacenti e il quadro clinico è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti.